Ieri pomeriggio la vincitrice del grande fratello VIP6, Jessica Selassie, ha fatto una diretta con i fan. Ad un certo punto nella diretta si è inserito anche l'ex concorrente Baru, che i fan Yeroux sognano fidanzato con Jessica. Il mare in mano, spiritosamente, le ha chiesto se le piacesse la pasta con le cipolle. La principessa ha ribattuto ironicamente no a questa domanda provocatoria. I fan naturalmente hanno esultato dinanzi a questa dimostrazione di interesse del nobile, per la principessa che è entrato nella diretta che lei stava facendo. Ma ieri sera è immersa una nuova, interessante novità. Quei fan che tallonano Baru peggio di una sezione dell'FBI hanno scoperto che lui era a cena in dolce compagnia con un'amica nella sua amata Toscana. Le storie di lei, in cui viene ritratto chiaramente, il nobile sono state rimosse. Ne è rimasta solo una dove si intravedono le mani importanti del nobile. Sono diverse le segnalazioni che giungono sulle frequentazioni femminili di Baru. Recentemente all'attenzione dei fan c'era stata questa sexy infermiera romana GF VIP6. Gli pseudofanieru toccano il fondo. Arrivano insulti e minacce alla presunta fiamma di Baru. Purtroppo la negativa attenzione mediatica. Aveva spinto questa signora a ricorrere all'avvocato per denunciare le minacce e gli insulti subiti da utenti. Fuori di testa. Speriamo che stavolta questa amica di Baru non subisca lo stesso trattamento. Siete d'accordo? Speriamo che stavolta questa amica.